Nuovo sbarco di migranti in Puglia e sulle coste del Gargano. Ieri notte 35 persone, tra cui 9 donne e 12 bambini, tutti cittadini afghani, a bordo di una barca sono stati intercettati dai militari della Guardia di Finanza a 10 miglia a largo della costa di Vieste. L'imbarcazione era una barca a vela battente bandiera bulgara. Soccorsi e portati in salvo presso la città del Faro, i migranti sono stati rifocillati e collocati presso una struttura del porto. Tra i bambini c'era anche un neonato. Stanno tutti bene. Sul posto i volontari della Croce Rossa e i volontari delle altre associazioni che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e assistenza sanitaria e umanitaria. Al vaglio degli inquirenti la posizione di due cittadini ucraini di 35 e 41 anni, molto probabilmente i possibili scafisti. Sul posto anche il personale USCA della ASL che è iniziato a sottoporre al test per l'infezione da covid-19 e coronavirus su tutti i migranti. Non è escluso che gli afghani possano essere trasferiti al più presto all'ex cara di Borgo Mezzanone per essere posti in quarantena. In pochi giorni è il quarto sbarco di migranti registrato in Puglia. Solo il 26 aprile scorso all'Euca erano stati registrati due sbarchi per un totale di 108 migranti di cui 70 minorenni.